Davide ci sono i tuoi fan dietro ti passo subito il microfono diciamo come abbiamo fatto con gli altri qualche nota sul brano che andrai a interpretare fu eseguito da Nino Ferrer nel 1967 e già chi c'era sta cominciando a intuire di cosa stiamo parlando di genere rhythm and blues è un inno alla musica nera ai cantanti afroamericani di quegli anni nel testo infatti si citano personalità della musica blues and soul come Wilson Pickett e James Brown è stata riproposta negli anni 90 in varie trasmissioni televisive in diverse versioni che le hanno fatto rivivere un secondo momento di fama ma questa sera a interpretarla per voi Davide De Luca la pelle Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.